Mancano 7 giorni. Il PSG rilancia, ma l'Inter chiede 20 milioni per liberare Schreiniar. Salve tifosi dell'Inter, benvenuti ad un'altra news dall'Inter, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati delle prossime notizie che usciranno qui, il gioco è fatto e via con le notizie. Meno 7, compreso il mercoledì iniziato poche ore fa. Siamo alle soglie di un mercato non particolarmente ricco, illuminato, all'Inter, solo per quello che sarà a giugno. L'addio di Milan Schreiniar è ormai una certezza, la sosta di Sistici, pubblica e poco apprezzata in viale della liberazione anche per questo, non lascia margini di manovra e speranze ai tifosi. Il tema, di questo se ne parla da giorni, è capire quando. Il Paris Saint Germain va a 15 milioni di euro. Dalla Francia arrivano diverse voci, la prima, a Parigi, in un momento in cui fatica a raggiungere subito Schreiniar, la tensione è puntata su un attaccante. La seconda, Campos è comunque pronto ad alzare la posta, per arrivare a un'offerta da 15 milioni di euro. Questo è quanto il club transalpino dovrebbe realisticamente pagare a luglio come bonus per l'ingaggio del difensore slovacco. L'Inter sonda, ma questa offerta non basta partiamo dalla fine, i nerazzurri, di fronte a queste cifre, non si arrendono. Troppo delicato per toccare la bilancia a questo punto della stagione, troppo complicato per trovare un sostituto soddisfacente in così poco tempo e con un'iniezione di risorse molto relativa. La musica potrebbe cambiare se il PSG arrivasse a quota 20, sono solo 5 milioni, ma fa una bella differenza. Una settimana prima della campanella dipende anche da quando arriva questa possibile offerta, se è troppo tardi, impedirà ulteriori spostamenti. Visto che l'Inter sta comunque sondando il mercato, a questo punto non potrebbe fare altrimenti. I nomi sono quelli che sono già circolati, Milenkovic, Scalvini, nei giorni scorsi incontro con il suo agente, ma il tema dovrebbe essere il rinnovo di bastoni e qualche passo avanti in quella direzione, Scors come idee in sospeso. Lascia la tua opinione nei commenti, lascia il tuo mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per essere avvisato non appena esce la prossima notizia dell'Inter, a più tardi.